E applauso per i giovanissimi, così ci scogliamo un gol i giovanissimi di questa prima da battaglia a pripista vi ricordo che al termine del 3 saranno premiati direttamente tutti i giovanissimi con la premiazione del pacco gara quindi al termine della terza mancia direttamente la premiazione per via pripista si stanno schierando Castini, Francesco, Niccolas, Mangalotti, anzi Riccardo, Niccolò, Pier Vittorio, Colton, Stefano e Frelato, Gabriele mentre sono sull'ultima linea i rider della prima mancia della abripista quindi la prima batteria abripista chiudono così tre applausi partita anche la seconda batteria ricordiamo che tra l'ora non ci sarà classifica naturalmente ma solamente le tre manche di qualifica per provare la pista e avvicinarsi a questo bellissimo sport e anche la seconda batteria a pripista arriva sull'ultima linea al traguardo sono quattro rider partenti ne abbiamo sei iscritti quindi andiamo a vedere di chi si tratta con il numero 427 non abbiamo corrispondenza, 122 quindi 427 sicuramente non è il numero da abripista però l'applauso comunque è l'ultima linea di questi rider un applauso anche per loro questa prima batteria mentre sul cancello si stanno schierando i fortissimi G1 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti